Un taglio del nastro alle ore 11 del 25 di marzo con tutte le autorità e annunciata anche la presenza del ministro e i beni culturali Dario Franceschini e poi una festa che durerà per tutto il giorno. È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del museo del Delta Antico e oggi il sindaco Marco Fabri, l'assessore alla cultura Alice Carli, i curatori e gli organizzatori dell'inaugurazione hanno spiegato come si svolgerà la giornata. L'apertura del nuovo museo che avviene proprio nelle giornate del FAI, per questo ci sarà anche il vice presidente prevedere rievocazioni storiche romane con un gruppo che ha lavorato anche con Alberto Angela e spettacoli come le fontane danzanti che nasceranno dal vicino canale. È uno spettacolo pirotecnico previsto per le 19. Quel giorno il museo infatti sarà aperto fino alle 24. Il museo del Delta Antico, nato come progetto nei primi anni 80, proprio con il sindaco Fabri che non lo inserì nel suo programma elettorale cinque anni fa, fra nove giorni apre e segna una nuova rinascita per l'economia comacchiese. Il turismo balneare infatti non basta più, quell'ambientale sta andando molto bene, ma ora Comacchio può puntare su una nuova offerta culturale che è già presente nel suo territorio, l'archeologia. L'anno scorso infatti esperti dell'Università di Zurico sono arrivati a Comacchio, ma ora sostiene con ambizione il sindaco Marco Fabri, serve fare un passo in avanti per attirare esperti e non. Il salto che noi dobbiamo fare insieme al Parco del Delta del Po, insieme alla stessa sovrintendenza, è quello di creare invece un'area archeologica che sia veramente aperta al pubblico, in cui anche magari con delle ricostruzioni, con dei percorsi molto esplicativi, si possa finalmente capire come era fatta Spina, come vivevano le genti del Delta e soprattutto anche passare da un concetto totalmente di tutela, anche qui a uno di valorizzazione.